In un memoriale Pacciani racconta di aver incontrato un uomo con i piedi lunghi. Perché racconta di averlo sognato che lo inseguiva con questi piedi lunghi? Lo aveva inseguito davvero e forse non in sogno. Ma quando? Certamente prima dell'84. Perché ha ricordato una scena drammatica a cui aveva assistito prima dell'84 e questa scena era collegata a uno dei diritti del morto. Tra le morte, altro che Pacciani. Pacciani fu assassinato perché qualcuno sospettava che Pacciani sapesse. Pacciani fu assassinato perché qualcuno sospettava che Pacciani sapesse. ف'te un neurocaminico, sicuramente se walk in order to candy. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.